Mario Draghi non è più il Presidente del Consiglio. Si è dimesso dopo che la sua maggioranza si è sgretolata ieri in Senato. Il Presidente Mattarella ha preso atto delle sue dimissioni. Il Governo perciò resta in carica per gli affari correnti, il che sostanzialmente significa che continua a lavorare. Ora, le strade sono due. O il Presidente Mattarella decide di sciogliere le Camere anticipatamente e indire nuove elezioni, oppure il Capo dello Stato può cominciare le consultazioni e capire se ci sarebbe ancora una maggioranza in grado di sostenere un nuovo Governo guidato da un traghettatore, un altro tecnico. Questa ipotesi al momento è remota, quasi certamente si andrà alle elezioni anticipate. C'è anche già una data che circola con insistenza. Il 2 ottobre.